Ciao a tutti e bentornati su Best Cinema Trainers. Io sono Eva e oggi vi presento il reboot della serie cult degli anni 70, Charlie Sanders. Il film è stato scritto, diretto e prodotto da Elizabeth Banks, che interpreta anche il ruolo di Bossier. I tre angeli invece in servizio di Charlie sono interpretati da Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Valeska. Il film uscirà nelle sale il 9 gennaio e in attesa di poterlo andare a vedere, ecco il trailer. Pronto? Siete in grave pericolo, andatevene subito! Apri il rifugio 6. Benvenuti alla Townsend Agency. Gestisco una squadra di donne eccezionali. Voi siete tipo delle spie. Operiamo al di fuori della legge. Un segreto. Insieme. Forse non sai che esistiamo, ma a noi non sfugge niente. Rubi gli aiuti umanitari! Chi sei tu? Ti trovavi al cospetto degli angeli. Allora, vuoi diventare un angelo? Cavolo, sì. Dammi le mie ali. Andiamo! Dove credi di andare tu? Tu farai atterrare il bestione, Hoplin! Cosa? A dopo! Parti! Siediti e tieni le mani bene in vista. Veramente non dovresti toccare niente qua dentro, a meno che tu non sia autorizzata a toccarla. Sei adorabile. Jane, flerti? Con un bellissimo nerd? La cosa più bella non è catturare grandi criminali. Siete voi, ragazze. Bere di giorno è la cosa che mi piace di più. Portatela nel guardaroba. Oh, mio Dio. Posso prendere quello che voglio? In prestito. C'è proprio una regola. Angeli, è ora di lavorare. Questo era il trailer. Scrivete nei commenti se avete intenzione di andarlo a vedere. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!